Nelle prime ore del mattino, carabinieri della compagnia Napoli Vomerano dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre cittadini italiani, due destinatari di ordinanza cautelare in cacere ed un terzo provvedimento applicativo dagli arresti domiciliari, gravemente indiziati ad aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di autovetture, rapine e truffe assicurative. L'attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Napoli Marianella e coordinata dalla procura di Napoli è scaturita dall'approfondita analisi di alcune denunce di furti e rapine di autovetture, avvenute anche in danno di pazienti dell'A.U. Federico II e del Santo Bono, attuati mediante la tecnica del cosiddetto finto parcheggiatore. Successivi approfondimenti hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli odieri destinatari dei provvedimenti di ulteriori indagati, in ordine all'operatività di un sodalizio dedito alle truffe in danno di compagnie assicurative e alla commissione di furti e rapine di auto per poi rivenderne i componenti. Quanto alla programmazione diretta a truffare le assicurazioni, è emersa la figura di coordinamento esercitata da uno degli indagati, colpito dalla misura cautelare destinata a regaltersi di un decreto di sequestro preventivo dell'indebito profitto ottenuto per simulare sinistro in stradale, coinvolgendo a tale scopo anche professionisti, tra cui medici, avvocati e periti assicurativi. Con riferimento ai diritti predatori ha emesso il ruolo determinante dei due indagati oggi arrestati, coinvolti in purimi episodi di furti di autovetture a partire dall'anno 2019. Ulteriori accertamenti hanno infine consentito di accertare l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte dei componenti della famiglia di uno dei destinatari dei provvedimenti odierni, che a partire dal 2021, tramite informazioni mendacee o messe comunicazioni all'Inps, avrebbe percepito la somma di euro 38.627, per la quale è stato disposto decreto di sequestro preventivo anche per equivalente. I provvedimenti eseguiti costituiscono misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, a verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.